scorriamo fino al 64esimo quando imperversa il nubifraggio sul valerio bacica lupo di taormina roman lovera sul punto di battuta sono 25 circa i metri di distanza va lovera direttamente sulla barriera del giarre impassibile barbacallo la ionica è in vantaggio un euro gol di roman lovera che si presenta così alla sua nuova formazione gran rete sotto il diluvio quello che porta in vantaggio grazie